Ciao ragazzi, eccoci qua, ci rivediamo abbastanza in fretta in realtà, pensavo di vedervi un po' più tardi, invece eccoci qua perché come vi dicevo oggi c'è stato un discorso legato al caso Polos Valenze e infatti abbiamo letto tutto, avete letto nel titolo, ho fatto già un post su Instagram, uno su Twitter e volevo parlarne un po' con voi perché la richiesta della procura che svolge la parte dell'accusa è la seguente. 9 punti di penalizzazione da attribuire al campionato corrente per quanto riguarda la Juventus per la questione relativa alle plus valenze. Per le altre 8 squadre coinvolte, dato che erano 9 squadre totali all'interno di questa discussione, soltanto ammende un po' come era avvenuto nel primo esito che era stato rilasciato ad aprile scorso, scusate, i termini tecnici faccio un po' fatica a tirarveli fuori, i termini esatti andrò molto a spanne e lo dico tranquillamente, probabilmente farò anche un discorso un po' più di pancia, piuttosto che professionale ma io in questo settore ci mastico poco, quindi cerco di dirvi quello che secondo me in questo momento è giusto dire e poi sarete voi a completare, questo sotto nei commenti è anche un po' la discussione. Intanto è utile sottolineare che questa è soltanto la richiesta della procura, che ripeto svolge la parte dell'accusa, ora toccherà invece alla Corte Rappello decidere se riaprire o meno il caso, che era già stato chiuso con la Juventus prosciolta insieme a Napoli e a tutte le altre squadre. Poi eventualmente la palla passerà alla Juventus che svolge la parte della difesa, quindi significa che in questo momento noi siamo soltanto agli inizi, c'è una parte che accusa, la procura, ho raccolto questo materiale, secondo me quello che abbiamo deciso l'anno scorso con Juventus innocente non è giusto, vorrei riaprire il caso per attribuire nove punti di penalizzazione alla Juventus e a me delle altre squadre. Ora, con tutto quello che è stato raccolto, bisognerà capire se questo caso verrà riaperto e poi la Juventus avrà la possibilità di dire guardate abbiamo fatto questo per questo, questo per questo, questo per questo. Sorpresi no, perché l'avevamo già detto tante volte, il caso Plus Valencia potrebbe essere riaperto con quello che è stato collezionato successivamente e vediamo se verrà aperto. Quindi da questo punto di vista non abbiamo novità, erano cose che già conoscevamo. Questa richiesta della procura è una richiesta pesante oppure no? Perché per me lo è, per me è una richiesta molto molto pesante e non ve lo dico perché giravano i titoli Juve Retrocessa, Serie B, Radiata dal Calcio e quei là, ma perché? Perché tutte le volte che abbiamo analizzato la faccenda abbiamo detto ci sono due filoni, quello legato alle Plus Valencia e quello legato agli stipendi. Quello legato alle Plus Valencia mi sembrava la cosa più tranquilla. Ripeto, la Juventus non è stata accusata, non toglieranno nove punti in questo momento, è soltanto la richiesta e quindi poi vedremo se questa cosa accadrà. Ma lato Plus Valencia secondo me si poteva stare abbastanza tranquilli perché comunque c'era già stata una sentenza, la Juventus era risultata innocente, così erano risultate innocenti le altre squadre, e riaprire un procedimento legato a una decisione abbastanza soggettiva del mercato dei calciatori mi sembrava e mi sembra tuttora qualcosa di strano. Poi magari la Corte deciderà di non riaprire neanche e di lasciare tutto così e quindi questa notizia verrà persa nel dimenticatoio e bla 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 e questo video magari risulterà pure inutile. Però secondo me è una richiesta molto importante perché nella mia testa questa era circa il massimo della richiesta ipotizzabile, eventualmente anzi il massimo di quello che poteva capitarci legato agli stipendi, perché invece legato agli stipendi più di una volta vi ho detto ragazzi attenzione che dei punti di penalizzazione potrebbero esserci. Vi ho sempre detto in questo momento parlare di retrocessione forse è troppo e non lo farei e non l'ho fatto e vi ho detto la retrocessione sì ipoteticamente è possibile ma vuol dire veramente che quasi si mettono d'accordo. Però era legato agli stipendi, non alle plusvalenze. Quindi lato mio, mia percezione personale, nove punti di penalizzazione come richiesta sono tanti se non tantissimi. Io vi dico la mia proprio papale papare terra terra da tifoso, semplicemente da tifoso. Se si arriverà a riaprire il caso e se l'avventus arriverà ad ottenere questi nove punti di penalizzazione, benissimo, prendiamoceli, ce li siamo meritati probabilmente se si è arrivati a decidere che ce li meritiamo. Prendiamoceli, stiamo zitti e non protestiamo nemmeno. Ce li prendiamo, stop, zitti, muti, ce li siamo meritati. Allo stesso tempo però esigo, dopo esigo, io me li prendo, benissimo, però io dopo esigo che venga aperta per tutto il calcio italiano un'inchiesta che va ad abbattere esattamente sui stessi tasti e sulle stesse valutazioni che hanno portato poi la Juventus a ottenere quei nove punti di penalizzazione. Perché le richieste all'accusa spesso e volentieri si sono basate su valori differenti di mercato pagati alla Juventus rispetto ai valori di transfer market. E già questa è una follia. Quindi se davvero Juventus si meriterà questi nove punti, se davvero Juventus otterrà questi nove punti, che se li prenda, benissimo, ma allo stesso tempo che vadano a prendere i libri contabili di tutte le società, vadano a verificare tutte le operazioni, tutte le operazioni, e vadano a vedere se quelle operazioni, secondo gli stessi principi e criteri che sono stati applicati con la Juventus, vanno in direzione positiva o negativa. Perché qua, qual è il limite? Ne hai fatte troppe, troppe, secondo chi? L'hai pagato troppo poco, troppo meno, qual è? Secondo che cosa? Secondo quali criteri? Ripeto, magari ci sono, se ci sono, se ci saranno, benissimo, mi prendo i punti, va benissimo. Però poi questi stessi criteri li utilizziamo come punto d'inizio, perché la questione di plus valenza è abbastanza un buco nero di informazioni, perché non si capisce niente, non c'è una vera e propria legge che va a stabilizzare questa cosa, allora prendiamo questa linea guida, che abbiamo utilizzato eventualmente per dare nove punti di riprenditazione alla Juventus, benissimo, ma adesso la utilizziamo anche retroattivamente, perché poi la Juventus, questa linea guida la subisce in maniera retroattiva, per verificare tutti i trasferimenti, non solo i Serie A, di tutto il sistema calcio Italia. Perché se no, stiamo utilizzando una regola soltanto per una parte e non sull'altra. Aggiungo, tante operazioni che sono messe sotto la linea di ingrandimento, da parte della procura, sono fatte con squadre, perché la Juventus faceva queste operazioni con altre squadre, che in questo momento nemmeno sono citate all'interno di questa discussione legata alle plus valenze, e quindi spero che possa essere ampliato il raggio alle squadre che hanno trattato con Juventus e alle squadre che non hanno trattato con Juventus, perché non è che allora entra nella rete solo chi ha fatto affari con la Juve, perché questi nuovi punti di penalizzazione, ripeto, io mi li prendo, però la Juventus con qualcuno gli affari li avrà fatti, o ha sempre solo gonfiato le plus valenze la Juventus e gli altri invece hanno sempre venduto al prezzo che effettivamente era giusto. Perché questi sono classici discorsi della Bara, è impossibile, credo che sia veramente impossibile analizzare questa questione senza citare altri esempi di altre squadre che ha comprato altri calciatori a prezzi gonfiati, cedendo giocatori che hanno abbassato quel prezzo lì, ma gonfiando quel valore di mercato, ne è pieno il mondo, non voglio nemmeno stare qui a citarveli, perché mentre vi parlo potrebbero essere venuti in mente 5-6 differenti, magari anche con squadre rivali della Juventus, ma ripeto, non è questo il mio obiettivo, non è questo che voglio fare, quindi io ripeto, richiesta di 9 punti, ora decideranno se riaprire o meno il caso, se il caso verrà aperto poi Juventus dovrà difendersi, ma guardi, quei 9 punti diventeranno 1-0, non verrà neanche riaperto, 100, quello che sarà. Nel caso io mi riprendo, va benissimo, però quelle linee guida che hanno dettato le penalizzazioni per la Juventus in maniera retroattiva diventano legge scritta, non scritta, scritta, criteri oggettivi per valutazioni di tutte le trattorie di mercato. Io mi riprendo, accetto assolutamente se la giustizia farà il suo corso decretando che Juventus si merita 9 punti perché XYZ, benissimo, però XYZ poi la applichiamo retroattivamente a tutte le società di calcio, in Italia non solo la Serie A, e diventano regolamenti per le trattative future, perché questo credo che sia la cosa più giusta in assoluto. Quindi vediamo cosa succede, ripeto, è difficile parlarne in maniera concreta, è difficile parlarne se vogliamo anche in maniera disinteressata, perché come fai? Secondo me è una richiesta molto dura per quanto riguarda il Plus Valenze, a questo punto non oso immaginare sugli stipendi dove secondo me invece c'è materiale per preoccuparsi, sicuramente, ma se 9 punti sono richiesti per il Plus Valenze, per gli stipendi cosa c'è? La scissione immediata della società Juventus, qualcosa del genere. Vediamo, vediamo che cosa succede. Scusate il breve video, scusate anche forse un approccio abbastanza aggressivo, però leggendo queste cose qui ogni tanto mi faccio delle domande, ma perché sono ignorante io, quindi voglio cercare di capire, leggendo anche i commenti, sicuramente sono ignorante io, però mi sembrano cose un po' particolari. Vediamo.